eccoci qua piccola diretta qua abbiamo qua una vecchia una vecchia una vecchia auto qua guardate qua una fia eccola qua c'è la diretta attenzione scusa un attimo siamo in diretta come ti chiami bravo dimmi che auto è questa un 501 del 1925 bravo bravo bravissimo dagli una bella sgasata dopo spettacolo guardate qua ma io ho fatto vedere la diretta qua vai tranquillo adesso eccola qua al 501 qua del buon pianetto franco insomma qua tra il camion d'epoca insomma la novità c'è guardate eccola qua grazie spettacolo guardate qua insomma la diretta c'è a questo punto guardate qua tutto molto semplice guardate insomma bravissimo eh mi raccomando tienila sempre eccola qua insomma a tutti guardate insomma una vera auto d'epoca questa eh un po' adattata eccola qua fiaz 571 sfida qua tra i camion guardate guardate spettacolo ed eccoci qua insomma guardate la diretta c'è eccola qua tra i camion d'epoca guardate attenzione giro qua turistico tra i camion guardate qua ragazzi il Marvin vi ha fatto vedere questa diretta insomma insomma la diretta c'è c'è la diretta qua Roberto pazzesco guardate qua lo sapevi di questo non li metti gli adesivi a questo? è arrivato senza dire niente senza dire niente e gli adesivi li li metti o no guardate qua giro turistico tra i camion qua il buon franco vai vai franco come si chiama il vecchio franco vecchio franco vai 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 franco grande franco guardate qua ragazzi c'è la diretta guardate qua il buon franco eccolo qua parcheggiato insomma non è che capita tutti i giorni di vedere quest'auto qua e guardate insomma eh auto molto grattata spettacolare una grattata c'è stata però niente si vuole un po' la diretta così ci sta ci sta guardate insomma bravo bravo guardate qua il buon Roberto che dopo Roberto gli adesivi eh mi raccomando eccolo qua scusa scusa stavolta non c'è la spingere Roberto bravo franco non c'è la spingere stavolta eccolo qua vai c'è anche il cicalino ed eccoci qua cari amici guardate è solo l'inizio del raduno evento passo della cisa ciao a tutti c'è la spingere è solo l'inizio del raduno evento passo della città è solo l'inizio del raduno evento passo della città